Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui molto velocemente tratterò l'argomento iOS 7.0.4 e jailbreak. Ok, ma prima voglio riassumere bene tutta la faccenda in modo da dare una riordinata alle idee di tutti voi per permettervi di seguirmi meglio. Inizio col fare un punto della situazione sul jailbreak di iOS 7 in generale. Dunque le versioni di iOS 7 uscite fino ad ora sono 7.0, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e la nuova arrivata 7.0.4 uscita ieri per l'appunto. Quattro di questi firmware, quindi tutti escluso iOS 7.0.1, supportano il jailbreak Tethered su iPhone 4 mediante il tool GXnow, il cui sviluppatore sono tra le altre cose proprio io. Mentre al ben più importante jailbreak Tethered su tutti i dispositivi, inclusi quelli di nuova generazione come iPhone 5S, iPhone 5C, iPad Air e iPad Mini 2 eccetera, ci sta pensando il team di hacker jailbreakers più importante al mondo, ossia gli evaders. Questo sta significare che il jailbreak Tethered di iOS 7 è ancora in fase di sviluppo ma che tra non molto tempo vedrà la luce. Ogni volta che Apple rilascia un nuovo aggiornamento software tutti gli amanti del jailbreak si dimostrano un pochino scettici, non sapendo se aggiornare o lasciar perdere. E già perché un aggiornamento di Apple potrebbe contenere dei files che non erano presenti nella vecchia versione che come unico scopo hanno quello di complicare la vita agli evaders ostacolando il loro progetto di jailbreak. E ieri ovviamente è successa la stessa cosa, appena Apple ha rilasciato iOS 7.0.4 ho pubblicato un video in cui fornevo i links di download e una breve guida su come aggiornare, ma se ben vi ricordate avevo speso anche due parole in merito al jailbreak, dicendosi come non sappiamo ancora se questo nuovo 7.0.4 contenga dei cambiamenti che bloccano il jailbreak in fase di sviluppo dagli evaders, non eseguite l'aggiornamento finché non vi darò ulteriori notizie e le nuove e buone notizie arrivano proprio in questo video. Infatti iHatesnow, un importantissimo hacker, ha comunicato sul suo profilo twitter ufficiale che iOS 7.0.4 non interferisce in alcun modo con il jailbreak. Infatti questi sono due dei suoi tweets ufficiali. Il primo dice, will that being said, iOS 6.0.4 has not security changes, ossia iOS 7.0.4 non ha dei cambiamenti dal punto di vista di sicurezza, quindi non interferisce assolutamente con il jailbreak che stanno creando gli evaders. Quindi sì ragazzi, anche se non vedete l'ora di eseguire il jailbreak antetread di iOS 7, state tranquilli perché potete pure aggiornare ad iOS 7.0.4 che si è dimostrato un firmware innocuo per gli hackers, quindi non sarà certo lui a bloccare il jailbreak. Dunque state tranquilli e fate l'aggiornamento. Detto questo ragazzi, non ci resta che aspettare il jailbreak antetread. Io vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di seguimi su Twitter e su Facebook, entrambi i links li trovate in descrizione. Un grande saluto, ciao a tutti!